Il fatto di pensare che una singola forza politica, addirittura il suo leader, possa decidere ogni anno, a suo piacimento e a suo arbitrio, di poter portare il Paese alle elezioni, è responsabile. Colleghi, 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 facciamo continuare il Presidente del Consiglio, prego. La nostra Costituzione descrive un assetto e un equilibrio istituzionale noto come democrazia parlamentare, significa che voi parlamentari siete eletti dal popolo ma il governo viene qui oggi a chiedere la fiducia, è così che si insegna un governo.